Non solo i vaccini, non solo il covid. La giornata dell'asla di Frosinone è stata ricca di altri impegni ed inaugurazioni. Una sanità in movimento che vuole continuare ad essere protagonista. Sì, è solo una tappa, è solo un inizio, una delle tante. Abbiamo bisogno di innovarla, la sanità. Devo dire che la squadra c'è tutta. Avete visto ai balconi, gli operatori ci guardavano, ma è perché sono partecipi a un cambiamento che abbiamo tutta l'intenzione di fare. La regione è con noi e questo è importantissimo, quindi è un inizio. L'asla Ciociara si è dotata dell'unità farmaceutica aziendale, un servizio fondamentale per le terapie oncologiche ed ematologiche con cui sarà possibile allestire medicinali personalizzati per la terapia oncologica, sacche personalizzate di nutrizione oltre ai preparati galenici, garantendo tempestività di erogazione e sicurezza del prodotto fornito. Ma il pezzo forte sono state le nuove TAC, due, una per Alatri ed una per lo Spaziani, strumenti a 128 strati fondamentali per eseguire esami radiologici accurati in uno spazio temporale brevissimo, coprendo campi anatomici elevati in pochi secondi. Oggi è successa una piccola rivoluzione in questa provincia perché io a mia memoria non ricordo di aver mai inaugurato quattro nuove macchine TAC di altissima tecnologia nei quattro presidi ospedalieri che consentono diagnosi più appropriate in tempi più brevi e con minore radiazioni, per cui è veramente una conquista molto molto importante ed è una piccola rivoluzione tecnologica che c'è stata qui in Cioceria. Sarà una sanità molto più digitale, ci dovrà essere una vera e propria rivoluzione digitale, la telemedicina, la teleassistenza, anche nuove figure professionali che anche le università devono iniziare a formare, io penso anche al medico domiciliare, al professionista sanitario domiciliare, cioè deve essere una sanità che va verso i cittadini e verso il territorio. E poi il Bosco Ossigeno, un giardino voluto dalla ASL di Frosinone per onorare tutti i cittadini ciociari che hanno perso la vita a causa del Covid. I primi 100 alberi sono stati piantumati nelle due aree antistanti, l'ospedale Spaziani. C'è un ospedale più verde, importantissimo, questo bando della Regione Lazio per dedicare più ossigeno, quindi noi abbiamo partecipato al bando, abbiamo vinto, abbiamo 40 alberi qui da noi, Bosco Ossigeno, lo dedicheremo successivamente, vi chiamerò per questo, ai deceduti Covid e ho anche degli artisti che ci hanno donato delle opere che installeremo appena pronte.